un gratta e vinci ok se va bene il video bene comunque c'è questo video importante che volevo farti vedere per me davvero non è bannabile non è bannabile era una cosa seria chiaro chiaro quindi l'autocritica principale è che la mia mezz'ora di live in cui ero tiktok ti fa cagare giusto? si esatto ok perché non ti piace guardare tiktok?